Sto viaggiando lungo il Molise dei Sapori per raccontare e suggerire a turisti e viaggiatori del gusto territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali dell'Italia. Raccolta su un piccolo promontorio poco allevante della foce del Biferno, Termoli è l'unico porto molisano e il più importante centro turistico e balneare della costa. L'insediamento moderno si sviluppa a sud e lungo il litorale, ma è il borgo antico circondato da mura a racchiudere l'anima della città. Alto rispetto alla marina è un intrico di impervie viuzze e casette addossate un tempo abitate dai pescatori su tutto il castello, eretto da Federico II nel 1247, a dominio della cittadella e la cattedrale di San Basso nel centro del paese costruita in forme pisano-pugliesi nel 1100. Punto di arrivo di commerci di terra e di mare, Termoli esprime una delle tradizioni culinarie più significative dell'Adriatico, fatta di ortaggi, pesce, profumi di erbe aromatiche e olio fruttato. Gran piatto concentrato di gusto è il brodetto alla termolese, zuppa mista, nata sui pescherecci, tradizionale piatto povero di recupero, reso succulento dall'uso del pescato locale, gattuccio, razza quattrocchi e torpedine marezzata, con pomodoro, peperoni e peperoncino. Affonda nella storia di queste terre l'uso di essiccare triglie e polpi a scopo di conservazione, ugualmente tradizionali è lo scapece di pesce, sardina, sgombro, merluzzo, razza e altro, prima fritto e poi conservato in vasi di coccio con l'aggiunta di aceto, acqua, foglie di salvia e aglio. Più recente invece il connubio tra frutti di mare, vongole e cannolicchi e primi piatti di pasta. Termoli è tra le località molisane, sede di mercato per i prodotti a chilometro zero. Poco lontano da Termoli si trova invece l'unica città del vino molisana, Campomarino, celebre per la doc Biferno Rosso, ma anche per il recupero di vitigni di antica tradizione come il Falanghina, il Fiano, il Greco, l'Ellenico e il Prugnolo. Termoli in molisano è detta Termele, è un comune della provincia di Campobasso, i cui abitanti sono detti termolesi. L'imponente cattedrale, il castello svevo di Federico II, il borgo vecchio che sorge arroccato su un promontorio a picco sul mare, questo è ciò che il visitatore scopre di Termoli immediatamente al suo arrivo. Ma basta poco per comprendere che qui il vero cuore di tutto è il mare. È situata lungo il litorale adriatico, è unico porto del Molise e centro peschereccio. Da sempre la pesca è l'anima dell'economia locale. Della sua storia più remota sono testimoni gli splendidi trabocchi, antiche macchine da pesca che narrano infinite storie di mare e di vita e che si trovano sotto le mura del centro antico. Della sua storia più remota sono testimoni, in maniera altrettanto rilevante, la cultura dell'oliveo, tanto che Termoli è membro dell'Associazione Nazionale Città dell'Olivo, ma anche la città che conserva il borgo medievale chiuso dentro le mura che lo separano dalla città moderna. Il suo centro storico, dominato dalla torre di Federico II, è posto su un piccolo promontorio ed è il centro più importante della costa adriatica da Vasto in Abruzzo al Gargano in Puglia. Si affaccia sul mare adriatico, situata nella zona altimetrica della collina litoranea. Geograficamente gran parte del territorio si colloca tra il fiume Biferno a sud e il torrente Sinarca a nord, entrambi a carattere torrentizio, da cui l'ipotesi del nome antico, Interamnia Frentanorum, che significa letteralmente terra fra due fiumi. Anticamente fece parte, come contea, del Ducato di Benevento e, al tempo dei Franchi, del Ducato di Spoleto, presa dai normanni e ripresa dall'imperatore Lotario III, che l'aggregò di nuovo a Spoleto, spogliata dai crociati nel 1194, distrutta in parte dai veneziani in lotta con Federico II e poi dal terremoto del 1456. Fu donata nel 1495 da Ferdinando II d'Aragona ad Andrea di Capua, quindi saccheggiata nel 1566 da Priale Pascià. Fu sede vescovile dall'anno 1000. Termoli è distinta in città vecchia, detta anche borgo, che occupa, appunto, come ho già detto, il promontorio roccioso di forma ellittica, cinto da forti mura e con vie anguste e tortuose, e in città nuova, molto più vasta, con vie ampie e rettiline, ma moderni palazzi, alberghi, lungo la costa sabbiosa. La costa presenta tre insenature ed ampie spiagge, grazie alle quali la città ha sviluppato la sua attività balneare. Il porto unico della costa morisana, che oltre alle attività pescherecce, può cogliere piroscafi di medio tonnellaggio ed è punto di partenza tutto l'anno di motonavi ed aliscafi per le isole tremiti. A Termoli, inoltre, si esercita l'industria della pesca, con la lavorazione delle sardine e delle alici in scatola. La parte più antica della città, nella quale si formarono i primi insediamenti, è proprio il promontorio, come ho già detto più volte, dove oggi sorge il borgo antico, caratterizzato dalle viuzze, con i continui scorci con viste sul mare, adriatico naturalmente. La città si sviluppa verso la costa nord, con la spiaggia Sant'Antonio, e verso sud con il rio vivo, dove si trovano gli stabilimenti balneari. Verso l'interno del territorio la città si ramifica in varie zone residenziali, nonché il centro cittadino formato da due vie principali, il Corso Nazionale e il Corso Fratelli Brigida, che furono i cardi usati per sviluppare la città dei Borboni agli inizi del 1800. Buona parte delle periferie si sviluppano sulle alture adiacenti, Difesa Grande e Colle Macchiusso, dalle quali si aprono anche le campagne coltivate. La zona sud di Termoli invece possiede l'unica area pianeggiante costiera, costituita da Pantano Basso, che da rio vivo si estende nell'interno fino a unirsi con le piane di Larino e la pianura del Basso Molise, dove si incontra la zona industriale della città, dalla quale si ha una vista sull'intero entroterra termolese. Una curiosità, nella città di Termoli passa il quindicesimo meridiano est, meridiano centrale del fuso orario di Berlino, Parigi e Roma, Europa centro-occidentale, che determina l'ora solare chiamata infatti l'ora di Termoli, mentre il meridiano è denominato Termoli-Etna. L'incrocio tra le due linee immaginarie di meridiani e paralleli avviene sulla spiaggia di Rio Vivo, e più precisamente presso la marina di San Pietro, a pochi passi dal luogo dove è situato il trabucco di Bricche. Ecco perché, tra le altre cose, quella spiaggia è stata scelta per la gigantesca impronta dello spot pubblicitario. Il castello Svevo, a pianta quadrilatera e su alte scarpate, con torrioni angolari circondanti l'alto maschio quadrato, è il simbolo più rappresentativo della città, con la sua architettura improntata a grande semplicità, priva di qualsiasi ornamento. Le sue caratteristiche difensive lasciano supporre che sia stato costruito in epoca normanna, nell'anno 1000 o nel secolo 1000, interamente in pietra calcarea e arenaria, nei pressi di una preesistente torre longobarda. È definito Svevo in seguito alla ristrutturazione e fortificazione voluta da Federico II di Svevia nel 1240, dopo i danni arrecati da un attacco della flotta veneziana. Per quanto riguarda le origini del nome di Termoli, esistono diverse ipotesi. Una deriverebbe dai primi marinai che approdarono sulle coste di Termoli e delle isole Tremiti, provenienti dalla Licia. Infatti, secondo Erodoto, alcuni Lici trasmigrarono da Creta con il nome di Termili. Un'altra è, secondo l'arcidiacono Tommaso da Termoli, che il nome Termoli deriverebbe da Tres Moles, o per la presenza di antiche terme, però mai rinvenute, o per la presenza di tre torri nella città. Lorenzo Pignorio riprende l'ipotesi di Tommaso da Termoli e fa derivare il nome Termoli da Termule, Termulae, per via delle piccole terme che, secondo quest'ultimo, si sarebbero trovate nei pressi della città. Altra ipotesi è quella che vorrebbe Termoli come corruzione di Interamnia o Interamna, similmente a Teramo, nella vicina Abruzzo, in quanto la città è posta anch'essa tra due fiumi, in questo caso il Biferno e il Sinarca. Monsignor Tommaso Giannelli, vescovo di Termoli dal 1753 al 1768, ipotizzò, invece, che anche Termon, l'odierna Termoli, sia una delle tante città fondate dall'eroe Epico Diomede, che, secondo alcuni scritti, dopo essere approdato alle isole Tremiti e aver conquistato il Gargano, avrebbe fondato molte città sulla costa adriatica. Ancora, secondo Monsignor Gennaro de Rubertis, durante l'antico dominio sulla città da parte del monastero di Cassino, la città avrebbe preso la denominazione di Termolantes, parola che denota terre appartenenti alla Chiesa, libere ed immuni dalla potestà secolare. Altra ipotesi ancora, vuole l'origine onomatopeica della parola Termoli come anche della stessa di Tremiti per la frequenza di terremoti. Secondo altri termini, Termoli avrebbe origini greche e quindi le tre lettere finali, Oli, sarebbero riconducibili a Polis, come nei nomi di Napoli o Gallipoli e la radice invece deriverebbe da Terma, ossia limite o confine e quindi città di confine. L'ipotesi elaborata dal canonico Rocchia nel suo manoscritto del 1800, cronistoria di Guglionesi e delle traslazioni di Sant'Adamo, è che Termoli, in passato, fosse Interamnia Frentanorum, centro portuale strategicamente molto importante in cui avvenivano intensi traffici marittimo-commerciali. Infine, un'altra tesi sostiene che il nome derivi da Termolitus, ossia distrutta tre volte. Inoltre, un'antica carta geografica risalente al 1745, ritraente tutta la costa molisana, rinvenuta in un archivio americano, riporta per la città i toponimi Termole o Termini, ma nonostante tante ipotesi non si hanno attestazioni certe. Le attestazioni di vita più antiche, invece, risalgono all'età preistorica e romana e sono documentate dai ritrovamenti di necropoli preistoriche in contrada Porticone e Difesa Grande, nonché da attestazioni ritrovate in ville romane. Se ci furono dunque insediamenti preistorici, protostorici e di età storica, questi sarebbero stati ubicati sulle colline prospicenti la costa, divise da corsi d'acqua. Successivamente, in seguito alle scorribbande dei barbari e ai momenti di crisi socio-economica del Basso Impero, circa nel 412 d.C., gli abitanti dei luoghi limitrofi si rifugiarono sul promontorio, zona facilmente difendibile, aperta sul mare, ma alta con un unico accesso alla terraferma. Vi si stanziarono e, come ricordo, esistono ancora vie con nomi tipo Tornola che fanno riferimento, appunto, ai primi abitanti di questa zona del promontorio.